Benvenuti su XtremeHardware.com, parliamo di Batman Arkham Origins, da poco rilasciato da Warner Bros. Games, ci troviamo nel secondo livello, abbiamo appena fatto una brutta conoscenza con Enigma, uno dei boss che troveremo nel gioco, e ci accingiamo ad andare avanti nella storia. Questa è la prima parte del gioco dove potremo prendere confidenza con il mondo free roaming di Batman. Prima di avanzare fruttiamo la modalità Detective per dare un'occhiata in giro e vedere se c'è qualcosa di interessante. Ecco qua. Questa è una vista generale. Ecco, in azzurro possiamo vedere i nemici, abbastanza distanti per far sì che non ci vedano. Sfruttiamo la funzione tramite il tasto Z per ingrandire. Ecco, un punto di vantaggio, una posizione riparata da cui studiare l'ambiente. Questi non sono altro che dei punti sopraelevati rispetto all'ambiente in cui ci troviamo, in modo da poter avere una visuale migliore ed eventualmente volgere degli attacchi particolari. Ma di questo ne parleremo più avanti. Adesso avanziamo. Furchiamo il mantello. Ecco, i punti di appiglio del battartiglio che si mettono in evidenza. Lì dovrebbero esserci i nostri nemici. Ecco, adesso che siamo più vicini possiamo notare che uno di questi è armato di bastone. E nello stile di Batman passiamo all'attacco. ecco, quest'aurea blu che avete visto intorno al nemico ci indica che questo ci sta attaccando e possiamo adoperare una contromossa. Combatto con un nemico, ecco un altro cerchio di attaccarmi, contro mossa. E se ne stendono due piuttosto che uno. Questo si è realizzato. Ecco, adesso mi ha colpito perché non ho fatto niente. Mi faccio raccogliere il bastone. Attacco. Ecco, avevo un punto scoperto e automaticamente Batman ha fruttato questo punto debole in vista per effettuare un colpo critico. Non credo che si rialzerà. In visuale detective. Possiamo vedere se il nostro avversario è stato ucciso o è stato semplicemente tramortito. Ok, ci risentiamo a presto, sempre su extremehardware.com con la prossima puntata su Batman Arkham Origins. A presto! Grazie!